E buongiorno siamo oggi nell'ambito della giornata della ricerca italiana nel mondo. Siamo siamo in collegamento con dei con una classe una parte di una classe della CSI della sezione italiana di Ferna e Volterra e i ragazzi che sono nella classe del Collegio per una veloce e interessante intervista nell'ambito della giornata della ricerca italiana. Ogni anno il ministero degli affari esteri della cooperazione internazionale promuove il 15 aprile giorno della nascita di Leonardo da Vinci la giornata della ricerca italiana nel mondo. Anche il nostro istituto italiano di cultura di Lione partecipa ogni anno e da da un anno lo fa vista anche la modalità spesso da remoto con l'intervento e la collaborazione di Claudio Rosmino giornalista scientifico e che l'anno scorso ha realizzato in collaborazione con l'istituto italiano di cultura una serie di interviste chiamata italiana mente mente maiuscolo. Oggi appunto do benvenuto a Claudio Rosmino a Silvia Golfera insegnante di italiano della classe di Adriano, Mattias, Margò e Giacomo e a Giovanna Deonna dirigente scolastica responsabile dell'ufficio scolastico del Consolato d'Italia a Lione. Allora volevo lasciare rapidamente la parola a Claudio, a Giovanna, a Silvia e a ai ragazzi per parlarci di questo incontro di oggi e del motivo perché i ragazzi hanno realizzato un piccolo video Claudio se ci vuoi introdurre. Diciamo che non ci poteva essere un modo migliore per celebrare questa giornata della ricerca italiana nel mondo perché abbiamo vari ingredienti in questo caso, abbiamo giovani generazioni che si occupano di scienza, italiani all'estero, quindi ci sono tutti gli ingredienti per raccontare questa grandissima, importantissima storia che è quella della ricerca italiana non soltanto nel nostro paese ma fuori dai confini perché ci facciamo veramente onore nel mondo. Direi che a questo punto potrebbe essere la stessa insegnante che credo abbia coordinato questo progetto. Innanzitutto raccontarcelo poi magari vedremo questo video e potremo fare due chiacchiere con gli studenti. In effetti, prima appunto di parlare di questa iniziativa forse sarebbe da ritornare sulla storia, sull'origine di questo. Tutto ha avuto origine con un concorso, vero Giovanna Deon, professoressa Deon? Sì, sì, molto brevemente e poi è giusto che appunto lasciamo lo spazio. Ecco, e si è trattato di un concorso, un piccolo concorso per le scuole indetto dal consolato, con la collaborazione ovviamente dell'istituto e anche del Comitest di Lione, il titolo, ecco il contesto era Trastitali, le tracce dell'Italia, quali tracce dell'Italia vedi quando ti guardi attorno. Ecco, e il video di questi ragazzi, il lavoro di questi ragazzi è stato particolarmente apprezzato perché appunto non è stato, non si è soffermato solo su tracce del passato, magari anche della passata dominazione romana di Lione, ok, ma si è invece concentrato proprio sul presente e anche sul futuro, quindi quelle che sono le eccellenze italiane che vedo in questo momento guardandomi attorno e quello che appunto l'Italia lascia e sta lasciando di importante sul territorio non solo francese, ma in questo caso anche internazionale, mondiale. Quindi noi abbiamo particolarmente apprezzato la commissione, insomma questo video e che ci fa capire come i ragazzi insomma si guardino attorno, ai ragazzi piace raccogliere le testimonianze concrete, reali, presenti dell'Italia attorno e a quanto a loro piaccia valorizzarle, metterle in valore. Quindi grazie mille sia della partecipazione che di questo lavoro che è stato veramente particolarmente apprezzato. Si è trattato di un concorso per tutti gli studenti di italiano, di tutti. Era dell'Accademia di Lione, in realtà avevamo ristretto l'Accademia di Lione, quindi insomma c'erano, potevano partecipare le classi sia di sezioni italiane che di ogni livello, sia degli elementari che della scuola media. In realtà poi i bambini degli elementari appunto non hanno partecipato, soprattutto i ragazzi del collegio, quindi ecco diciamo che la maggior parte dei lavori pervenuti erano di ragazzi del collegio, probabilmente era anche più adatto anche come poi ragazzi del liceo in questo momento, poi considerando la situazione delle scuole in questo momento, le difficoltà con le, insomma la pandemia e tutto, siamo stati anche abbastanza soddisfatti. Non abbiamo avuto una quantità enorme, però insomma abbiamo avuto la possibilità di vedere degli stili diversi e di apprezzare anche ecco le modalità diverse dei ragazzi, di cogliere la presenza dell'Italia, il modo in cui loro la colgono proprio anche il punto di vista, è stato interessante. Ecco e quindi ci è molto piaciuto questo, cogliere il meglio dell'Italia, quello che c'è e quello che la rappresenta nel modo migliore. Complimenti davvero allora. Silvia, la professoressa Golfera è l'insegnante d'italiano di una scuola, appunto di una sezione italiana della Cite Scolera Internazionale di Ferna e Voltaire, e che cosa ha proposto? Nel proporre appunto il concorso che cosa ha previsto? Quando è stato lanciato questo concorso, beh io l'ho trovato subito molto stimolante, perché mi sembrava un'occasione, come dire, importante per veramente studiare il territorio in cui viviamo. Il paese ex Cotè di Ginevra è pieno di tracce d'Italia, di tracce non solo del passato ma anche del presente, e avevo colto insomma così anche l'aspetto un po' antropologico di questo concorso, e in questo modo io l'ho pubblicizzato e l'ho proposto ai ragazzi. Devo dire che i ragazzi hanno subito bocciato la mia idea e ne hanno proposto una migliore, e infatti devo dire che hanno lavorato molto bene in autonomia ed hanno avuto l'idea giusta, cioè quella di sottolineare insomma la grande presenza italiana al CERN, poi molto di loro vengono da famiglie, fra l'altro che lavorano al CERN, quindi sono anche stimolati direi in questo senso, sensibilizzati in questo senso, e direi che veramente è stata, come dire, un'idea migliore di quella che avevo avuto io. È stato molto interessante l'incontro anche con la dottoressa Giannotti, è stata un'occasione anche per confrontarsi con gli altri ragazzi su questa realtà così importante, dove la presenza italiana è assolutamente preponderante e valorizza anche il pensiero degli italiani, l'attività degli italiani, le competenze degli italiani, che sono molti qui in questo territorio del Paese X a lavorare, non solo per l'Italia ma direi proprio per il mondo, nell'ambito della ricerca. Veramente è un'eccellenza che noi dovremmo sottolineare più spesso, i ragazzi l'hanno fatto e mi sembra un'ottima cosa. E devo dire che hanno lavorato molto bene anche con, cioè hanno organizzato il lavoro, quindi hanno dimostrato una capacità anche di progettazione notevole. Ci sono dei bravi ragazzi, a me volete poterlo dire. Di sicuro mi sembra proprio che sia questo il caso, ma volevo avere un'informazione in più forse da Claudio Rosmino. Che cos'è il CERN e perché sono andati a incontrare la dottoressa Gianotti? Che cos'è? Per chi non sapesse. Allora il CERN è un, non so se è il più grande, comunque uno dei primi due, tre grandi, diciamo, laboratori di ricerca, centri, non laboratori, centri di ricerca al mondo nel campo della fisica delle particelle. C'è una frase che mi aveva detto Fabio Lagianotti la prima volta che l'ho intervistata che chiude un po' la missione di questo posto, che è studiare l'infinitamente piccolo per capire l'infinitamente grande. Praticamente quello che succede al CERN è con queste macchine che i ragazzi hanno visto da vicino come gli acceleratori di particelle e i rilevatori, i rivelatori, i rivelatori di particelle, perché sono quelli che studiano appunto tramite degli scontri di particelle cosa c'è all'interno di questa materia infinitamente piccola. Perché ci interessa tutto questo? Perché tutto quello che noi possiamo vedere o toccare nel nostro quotidiano è fatto di materia e sapere come questa materia sta insieme, cosa nasconde dentro, ci serve per capire praticamente la genesi di tutto l'universo. Quindi molto, riassunto in modo molto drastico e semplicistico, questo è quello che fanno al CERN. studiare la materia. Sono le domande poi che gli stessi ragazzi hanno posto alla direttrice del centro, CERN, appunto a Fabiola Gianotti, e si vedono queste domande, queste risposte nel video. Sì, io ho apprezzato... Allora, l'ho intervistata diverse volte Fabiola Gianotti e so che non è facile da intervistare, innanzitutto per questioni di agenda e poi perché fa molta attenzione agli argomenti che si toccano, alle domande come sono poste, bisogna conquistarla, nel senso che ha bisogno di un rapporto di fiducia con le persone. Vi faccio i complimenti perché non l'ho mai vista così empatica come con voi, perché si vede che ha proprio voglia di regalarvi le sue risposte. E quindi complimenti perché avete saputo conquistare la sua fiducia e poi penso che anche le domande fossero di suo gradimento. Quindi possiamo vedere il video a questo punto. Ecco, era appunto questo, quello che mi interessava appunto vedere. Gli investigatori Adriano, Giacomo, Margot e Mattias si sono messi alla ricerca di tracce dell'attività italiana in terra francese. Abbiamo cercato intorno al nostro collège e di primi indizi di presenza italiana ci sono apparsi alcuni codici. A circa 100 metri di profondità abbiamo trovato delle tracce dell'eccellenza scientifica italiana. All'interno di un tunnel sotterraneo con una circofferenza di circa 27 chilometri abbiamo trovato l'HC, l'acceleratore di particelle del CERN. La nostra migliore traccia d'Italia in Pigex è la direttrice generale del CERN, la dottoressa Fabiola Gianotti ci ha fatto l'onore di accettare una nostra intervista. Quanto è importante la contribuzione italiana qui in Pigex e più precisamente al CERN? L'Italia è uno dei paesi fondatori del CERN e ha giocato un ruolo molto importante nello sviluppo del laboratorio. Ha avuto quattro direttori generali su 16. che oggi contribuisce in modo molto importante agli acceleratori, agli spedimenti e alla passatura di calcolo. Su circa 18.000 persone che lavorano al CERN, 2400 sono italiane, quindi è un contingente molto importante. Quali saranno le tracce nel nostro territorio francese che gli italiani lanceranno nei prossimi anni nell'ambito del programma del CERN? I progetti futuri del CERN sono due, uno è FCC e l'altro si chiama CLIC e che la comunità scientifica non ha ancora scelto quale video verrà realizzato. Vedremo nei prossimi mesi se ci sarà un'indicazione in quale direzione andare. Mi aspetto che gli italiani continueranno a contribuire in modo molto importante alle tecnologie, al disegno degli acceleratori e alla loro realizzazione, come hanno sempre fatto per la storia del CERN. Per quanto riguarda il progetto Science Schedule, Portale della Science, è un progetto che stiamo adesso cominciando a costruire a fine di quest'anno, l'edificio è disegnato da Renzo Chiano, quindi un architetto italiano, e ci sono anche molti contributi, donazioni, perché è un progetto realizzato solo con donazioni. E quindi ci sono donazioni importanti che vengono dall'Italia. Si sente un simbolo ed un modello di successo italiano in quanto donna di scienza o donna italiana? Non mi sento un successo particolare, però è chiaro che sono contenta se il fatto che ci sia un italiano in questa posizione, con una posizione di visibilità, può aiutare a promuovere il nostro paese. Tanti sono gli studenti e poi gli scienziati italiani, come lei hanno lasciato l'Italia per fare ricerca di scientifichi in altri paesi. Pensa che dopo tanti anni si finisca col trascurare la propria nazionalità, o rimane sempre il sentimento di essere ambasciatori dell'incidenza italiana all'estero? No, rimane sempre un forte attaccamento al nostro paese, anche se chi lavora al CERN, CERN è un ambiente talmente internazionale che in qualche modo perdiamo un po' il nostro passaporto, nel senso che diventiamo un po' cittadini dell'Europa, se non cittadini del mondo. Però l'attaccamento al paese rimane sempre. Veramente bello, veramente incoraggiante, veramente vero. Bravi, bravi Adriano con la sorella Livia, brava Margot, bravo Giacomo, bravo Mattias. La parola qua a Claudio. Che cosa te ne pare di questo bel video? Ma io, come ho detto, noto dei segnali nella postura di Fabiola Gianotti che confermano che lei ha apprezzato questa intervista, gli intervistatori, quindi io noto questo. Quelle domande erano molto belle, soprattutto l'ultima, perché racchiude un po' tutto il senso, penso, del vostro lavoro. Io vorrei a questo punto farvi parlare un pochettino, perché abbiamo parlato noi, ma i protagonisti siete voi. Magari iniziando da Margot, così rispettiamo un po' gli equilibri. Che cos'è che vi ha sorpreso o emozionato di più nel fare questo servizio? Quello che mi ha molto emozionato, beh, innanzitutto è stato poter incontrare la dottoressa Fabiola Gianotti e poter parlare con lei perché mio padre lavora al CERN e quindi ho spesso potuto un po' discutere con lui del CERN. Il CERN è qualcosa che mi piace molto e mi intriga anche e poter proprio parlare con lei di persona è stata una cosa che mi ha molto emozionato e quindi ecco, mi ha molta emozione e sono stata molto contenta di poter parlare con la dottoressa Fabiola Gianotti. Voi avete qualche altro aneddoto, qualcosa da raccontare? Voi vado avanti, faccio un po' di domande in ordine sparso. Ecco, ad esempio, non so, Adriano, parliamo da Adriano, andiamo in ordine alfabetico a questo punto. Mi piacerebbe, visto che sicuramente avete fatto delle ricerche prima di pensare alle domande, esattamente questo, come, da quante domande siete partiti, come siete arrivati a queste domande, come l'avete pensata questa parte qui? Perché poi in un'intervista è la cosa più difficile. Allora, abbiamo guardato perché dovevamo fare un video per capire l'italianità della dottoressa e quindi abbiamo provato a porre delle domande sulla scienza, sull'Italia nel PgX, sull'Italia al CERN. Abbiamo trovato delle domande per ricoprire un po' tutti gli argomenti che erano importanti per il video, anche se per fare questo video nei tre minuti abbiamo dovuto tagliare qualche domanda. Abbiamo provato a mettere un po' di scienza, un po' di quindi la rappresentazione italiana al CERN per coprire un po' tutti gli argomenti. Beh, devo dire che l'equilibrio era perfetto. Ho fatto un... so che cosa vuol dire registrare magari mezz'ora di interviste e poi dover scegliere la domanda, la risposta. Naturalmente io faccio le domande così, però tutti siete invitati a partecipare, a dare delle risposte. Un'altra cosa che volevo chiedere a questo punto, dai uno di voi rispondete un po' in modo casuale, così viene un po' più animata, è c'è qualcosa che avete scoperto sul CERN riguardo alla sua missione che vi ha veramente entusiasmato? Non so se c'è qualcuno che è appassionato di scienza tra di voi, ma che il classico nella scienza lo chiamano il wow effect, perché tutto parte da una segnalazione, di un segnale che era dallo spazio e uno gli aveva fatto un cerchietto e ha scritto wow. Vabbè, questa cosa qui... c'è qualcosa che dal punto di vista scientifico avete scoperto che avete detto wow, fanno questa cosa qui al CERN? Allora, io sì, da un certo punto, il progetto FCC del CERN mi ha molto emozionato anche perché non ero al corrente di quello che volevano fare e il fatto che volevano costruire dunque un acceleratore più grande mi ha molto sì emozionato, non sapevo dunque sì sì, ero contentissimo per il CERN. Sì, il FCC è il Future Circular Collider, che è un acceleratore di particelle di 100 km che dovrà sostituire quello attuale, l'LHC, che è di 27 km di circonferenza, mentre l'altro che ha citato la dottoressa Gianotti, il CLIC, invece è un acceleratore lineare, per cui non fa il giro... l'FCC farà più giri sullo stesso tracciato probabilmente dell'LHC. Professoressa, lei si è sentita più orgogliosa per quello che hanno fatto gli suoi studenti o più orgogliosa per questo premio che ricevete? Guardi che è una domanda difficile quella che lei fa, è anche un po' imbarazzante, no sto scherzando. Io mi sento molto orgogliosa per quello che hanno fatto e per come sono, prima di tutto. Poi i premi vengono di conseguenza, i premi non bisogna cercarli, se arrivano arrivano, se non arrivano non arrivano. L'importante secondo me è fare quello che si ama e farlo bene, e farlo con passione. E anche la lezione del Cerna. Il Cerna lavora per arrivare a dei risultati, per scoprire l'origine appunto della materia. Se arrivano i premi, tanto meglio. Cioè io lo trovo questo anche dal punto di vista insomma tutto sommato esistenziale, cioè lo trovo secondario alla questione del premio. Certo da soddisfazione, ne siamo contenti, però ecco non si lavora per quello, non si cerca per, cioè non si fa ricerca per quello e non si vive per quello. Sarebbe molto frustrante io credo. Comunque è stata una sorpresa per tutti. Lei diceva che ha visto la dottoressa Giannotte particolarmente rilassata in questa intervista. Beh, io credo sia un po' normale da ragazzini, in questo contesto chiaramente lei non si sentiva, non sentiva la possibilità di trappole, non si sentiva in qualche modo minacciata. E poi io ho trovato per esempio eccezionale un particolare assolutamente secondario, che la dottoressa Giannotte è diplomata al conservatorio, è un'ottima pianista. Io questo lo trovo meraviglioso al di là del suo ruolo scientifico. questo riuscire a coniugare la scienza ad altissimi livelli, ma anche l'arte, la musica, poi il CERN ha un rapporto con la musica molto importante, perché molti praticano la musica, fanno concerti. Ci sono dei gruppi di scienziati all'interno dei musicali di scienziati anche. E volevo sentire ancora da Giacomo, che non ha ancora risposto, se dopo aver realizzato questo servizio, se hai una migliore idea dell'immagine dell'Italia in questo campo specifico, quello della scienza all'estero. Magari c'è qualcosa che hai scoperto, magari non sapevi che eravamo così bravi. Come vedi l'italianità nel campo scientifico, che è quello che avete esplorato? Devo dire che mi sono reso conto di quanto il contributo italiano sia importante, anche con il progetto che ha cilato la dottoressa, il portale della science, che è proprio un, diciamo, è qualcosa che permette anche alle persone che conoscono poco la scienza, come anche il globo, di venire a conoscenza di quello che fa il CERN tutti i giorni e quindi anche di entrare in questo mondo della scienza, piano piano, e scoprire queste cose. Mi ha affascinato molto anche quindi questo lato del CERN, di apertura verso il resto del mondo, che magari non è molto, non sa molto di scienza, comunque che possa venire a conoscenza con il globo, c'è tutta una mostra, diciamo, al globo che permette di vedere il CERN. E il contributo italiano, secondo me, è molto importante, può anche far vedere un lato che è molto, poco pubblicizzato forse, di quanto l'Italia invece spenda e si metta con la ricerca pubblica e contribuisca anche ai livelli internazionali con il CERN, avendo la direttrice che è italiana. Ecco, volevo giustamente, senza rubare altro tempo, ma questo che Giacomo ha appena detto, una cosa molto importante, perché noi siamo abituati a fare, a vedere le copertine con Fabiola Gianotti o quando magari c'è stato Carlo Rubbia che ha vinto il Nobel della Fisica, altro direttore generale del CERN, ma non ci rendiamo conto di quanto Italia c'è in questa scienza. Quindi la dottoressa Gianotti ha detto che su 18.000 praticamente persone che lavorano al CERN, 2.400 circa sono italiani, quindi poco meno di un quarto. Io volevo regalarvi solo un piccolo aneddoto, perché alle volte queste piccole cose fanno pensare più di mille esempi. Quando noi siamo atterrati sulla Luna, dovete sapere che a quell'epoca c'era la corrispondente della, senza far pubblicità, della Apple, si chiamava Olivetti, cioè era un'azienda che aveva creato i primi home computer che erano stati esposti alla Fiera Internazionale di New York del 1956, la NASA quando ha visto quei computer si è acquisiti e ha calcolato il tracciato Terra-Luna grazie anche ai computer dell'Olivetti. Questo è l'inizio di una storia, naturalmente non è quello, perché prima non è quello proprio, è la storia più recente della modernità, della scienza, della tecnologia italiana. L'Italia è stato il terzo paese nella storia dell'esplorazione spaziale a lanciare un satellite. Questo è stato possibile grazie a una piattaforma petrolifera a largo della Somalia. Cioè l'Italia non è soltanto il premio Nobel che possiamo vincere una volta ogni 20 anni, o la ricercatrice. Oggi c'è una ricercatrice che ha più o meno il doppio della vostra età, che ha partecipato alla realizzazione del vaccino americano ed è stata ringraziata direttamente dal vicepresidente americano. Cioè noi forse siamo un po' troppo timidi o non sappiamo valorizzarci, ma voi che abitate vicino a uno dei più grandi centri di scienza in Europa sappiate che lì dietro c'è tantissima Italia ed è un'Italia modesta magari, ma che sa andare avanti e portare dei risultati. Grazie, grazie a... Io direi proprio nell'ordine grazie alla dirigente scolastica, grazie al Consolato, al Comites, grazie anche all'Istituto Italiano di Cultura, alla professoressa Golfera per aver contribuito, per aver stimolato e anche accompagnato questa bella iniziativa, ma soprattutto grazie ai ragazzi di 14 anni al Collegio di aver avuto questa bella pensata, questa bella iniziativa per fare un omaggio, per dare un omaggio alla scienza, alla ricerca italiana e contemporaneamente aver sfruttato questa bella occasione di crescita. Grazie e buon lavoro e a presto per la giornata della ricerca italiana nel mondo. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti, grazie ragazzi, complimenti. Grazie, complimenti. Grazie.